Sono 18 i ragazzi a vario titolo coinvolti nelle molestie da branco nei confronti di alcune ragazze in piazza Domo a Milano durante il Capodanno e sottoposti a controllo in queste ore dalla Forza dell'Ordine. Le telecamere presenti sul posto e l'attività sui social hanno permesso agli investigatori di individuare 15 maggiorenni e 3 minorenni di età compresa tra i 15 e i 21 anni che si ritiene abbiano partecipato ai raid. Le indagini coordinate dalla Procura di Milano hanno consentito di accertare tre diversi episodi di violenza consumati quella notte ai danni di 9 ragazze presenti in piazza per i festeggiamenti. Grazie